Allora, a parte i miei capelli che me li sono rasati proprio con la lametta perché mi ero stufato poi tutti quanti i parrucchieri sono chiusi, ho avuto una discussione con Marco Coletti, un fisico, credo sia un fisico, ha un canale su YouTube, La Fisica che non ti aspetti. Ah, non mi ha ancora autorizzato a pubblicare il suo video per potergli rispondere, quindi faccio un video così, penso che sia dovuto, anche perché io francamente non devo offendere nessuno, voglio discutere, voglio discutere. Marco ha detto che praticamente, vi faccio un po' il riassunto del suo video, ma se volete vi metto anzi, ve lo metto pure il link qui sotto, il 5G non dobbiamo assolutamente temere perché i quanti, gli elettroni, le cose, insomma, si è addentrato nello specifico della sua materia, cioè nella fisica, ok? Io gli ho risposto, gli ho fatto un commento dicendo, ma allora il 5G fa bene, allora anziché di fare una passeggiata nel bosco oggi, bello respirare l'aria fresca, vado vicino l'antenna che hanno messo qui nella mia città, il 5G, ah, l'antenna 5G, che bellezza, non fa niente, non fa niente. Allora, nella discussione, nella chat, mi ha detto delle cose, nel senso, sì, se tu vuoi solo, diciamo così, prendermi in giro, rispondermi faziosamente, io non ti autorizzo, vabbè, ma non c'è problema, Marco, io non voglio rispondere a nessuno faziosamente, oppure non voglio mettere in bocca parole a nessuno, il senso, occorre discutere sul senso. Ti ho risposto che tu hai parlato delle onde ionizzanti e non ionizzanti, che lo dice la parola stessa, un'onda ionizza e l'altra non ionizza, ma quella è soltanto una parte di quelle onde, cioè di quello che fa, vengono chiamate ionizzanti e non ionizzanti perché hanno quella proprietà, ma sempre onde sono, il fatto che non sono ionizzanti non significano che non fanno niente, cioè sono due cose diverse, le ionizzanti ionizzano, le non ionizzanti non ionizzano, ma neanche le onde non ionizzanti del forno normale o del fuoco, degli infrarossi che emette un fuoco, o una qualsiasi cosa non sono onde ionizzanti, ma se te ce butti dentro crepi, cioè questo è il discorso, no? Hai ridotto tutto il tuo concetto al fatto che delle onde non ionizzanti siano innocue. Poi hai detto che la frequenza non conta sulla potenza, beh, in parte è vero, in parte non è vero, gli alimentatori switching, lo so che sei un fisico, ma io sono un elettronico, quindi gli alimentatori switching lavorano proprio su questo senso, su questo principio, cioè praticamente prima si usavano i trasformatori giganti per avere tanti ampere, per avere tanta potenza, adesso invece si usano dei trasformatorini piccoli, così che ti tirano fuori 3 ampere, 4 ampere, cose impensabili quando si utilizzavano i trasformatori. Come funzionano? Funzionano con degli oscillatori, dei transistor, tipo dei transistor che oscillano e stringono appunto questa, aumentano la frequenza, è come se io prendo un punch ball e gli do un cazzotto da 10 kg, ok? Con un trasformatore e magari prendo un punch ball e gli do 10.000 cazzotti di schiaffetti, tatatatatata, con due oscillatori. La potenza in quel frangente, in quel tempo, è la stessa, ma il circuito fa meno fatica perché oscilla. Il problema è la frequenza contro la potenza, quindi in parte è vero, in parte non è vero quello che hai detto. Per quanto riguarda anche, adesso io vado a braccio, eh Marco? Per quanto riguarda anche il fatto che le onde più vai su con la frequenza e più si fermano, è vero, è vero, infatti stanno tagliando tutti gli alberi perché il 5G con una foglia si ferma. È chiaro che la foglia poi prende fuoco, no? Adesso te la faccio enorme. È chiaro che la foglia prende fuoco perché assorbe tutta la frequenza, tutta la portante l'assorbe, no? Perché basta un piccolo ostacolo che il 5G si ferma, ma come tu mi puoi insegnare? Niente si crea e niente si distrugge, tutto si trasforma. Se una foglia ferma un'antenna 5G, questa energia dove va? Sulla superficie della foglia, quindi a questa foglia succede qualcosa, magari si scalderà, magari si scalderà soltanto dal punto di vista fisico, ma se noi prendiamo una forma di vita, ok? E ci sono esperimenti fatti di blatte messe in una scatola con il 5G vicino, 5G tra virgolette, con un trasmettitore vicino della potenza di un router e hanno visto che queste blatte hanno cambiato il loro modo di comportarsi, hanno avuto anche delle malattie, nonostante la blatta che è un animale molto resistente. Quindi ci stanno studi, i controstudi della scienza che dimostrano che queste onde qualcosa fanno, qualcosa fanno, si parla addirittura della radiofrequenza da alcune frequenze prestabilite che interagisce con l'ossigeno, ecco perché poi i cibi nel microonde si scaldano, perché praticamente queste microonde vanno a colpire l'ossigeno H2O, quindi l'ossigeno dell'acqua e lo fanno vibrare, le molecole di acqua vibrano e insomma, però questo ossigeno si scinde, a determinate frequenze si scinde. Calcolare solo una cosa che Tesla, Nikola Tesla, con un vibratore normalissimo, un altro po' ti faceva cadere un palazzo, ok? Quindi esistono anche altre cose, tu sei stato un po' troppo superficiale. Le frequenze, come un tenore, quando fa wow, prende il bicchiere, se riesce a trovare la stessa tonalità, il bicchiere comincia a vibrare per simpatia, quindi automaticamente quel bicchiere che vibra, ok, amplifica le frequenze, perché la frequenza si va a sommare, perché è la stessa frequenza di risonanza del bicchiere. Se noi riusciamo a trovare una frequenza di risonanza di una cellula o di alcune parti delle cellule del corpo, possiamo fare dei seri danni, dei seri danni. Questa è biochimica applicata anche a quello che è la fisica, d'accordo? La fisica, voi parlate sempre a compartimenti stagni, è un po' quando, scusate mi arriva un messaggio, ho dimenticato di azzittire, ecco qua, azzittisco un attimo il telefono, voi dimenticate tante cose e parlate sempre a compartimenti stagni, ma le cose vanno viste nella loro interezza. E ti spiego anche il perché, caro Marco, quando ci hanno fatto vedere i vaccini che funzionavano con i grafici, non hanno fatto vedere i grafici prima dei vaccini, ok? Se tu vai a vedere i grafici prima dei vaccini, per esempio la poliomelite, cioè la poliomelite stava scendendo, poi è arrivato il vaccino e ha continuato a scendere, quindi se tu vedi il grafico nella sua interezza, ti rendi conto che il vaccino non è servito a niente, ok? Quando certi personaggi che scrivono libri e dicono di essere birologi, e dicono che la peste è un virus e lo mettono sul titolo del libro, la peste non è un virus, è un batterio, quindi questa scienza di cui voi parlate, ecco adesso voglio mettere un muro, perché io non mi sento della scienza, io mi sento della scienza del buonsenso, bisogna attivare il cervello, non aprire i libri e basta, bisogna attivare il cervello, e quindi ti posso garantire che i libri li ho aperti anch'io, e a mio tempo mi sono documentato su tanti settori, ma poi la vera intelligenza sta nel collegare questi settori, cercare di capire dove sta l'inghippo, perché fatta la legge hai trovato l'inganno, ok? Se una persona ti vuole convincere di qualsiasi cosa, lo può fare, basta soltanto far leva sulla ignoranza dell'altro, oppure omettere delle cose e sperare che l'altro non le sa, ok? Perché sto facendo questo discorso, che è un discorso che riguarda un po' tutto, perché devo essere sincero, sei preparato per quello che riguarda la fisica, che non ti aspetti, tutte le belle cose, però dovresti trattare le cose non a compartimenti stagni, ti faccio quest'ultimo esempio, vedi, tu hai parlato di elettroni, l'elettrone è alla base dell'elettricità, i fili, le lampadine, si accendono, si spengono, tu hai parlato di elettroni, beh, io non ho mai parlato di elettroni, però se ti dico una cosa, io ti dico, io posso progettare un microprocessore, un circuito logico, le porte logiche e altre cose, tu ci riesci a fare una cosa del genere, eppure hai parlato perfettamente di elettroni, hai parlato di questi elettroni come se fossero tuoi fratelli, però tra l'elettrone che cammina in un circuito logico, non è campo tuo, quello è un campo di elettronica digitale, allora come vedi, sapere che cos'è perfettamente un elettrone, non ti autorizza e non ti qualifica per progettare un circuito elettronico logico, o elettronico normale, vabbè, l'elettronica normale è un po' più semplice, ma l'elettronica logica è un po' più complicata, un po' più complessa, quindi, se io ti chiedessi di progettarmi un microprocessore che fa determinate cose, nonostante tu conosci gli elettroni, ammenatito, e anche meglio di me, non saresti neanche paragonabile a me, adesso io non lo so che grado di cultura hai sull'elettronica digitale, per carica, alzo le mani, però ti faccio capire un attimo come funziona un po' il mio modo di pensare, il fatto che tu conosci bene gli elettroni, non ti dà la qualifica per capire e per poter progettare un circuito di un computer, per poter progettare un computer, allora il fatto, questo perché te lo sto dicendo? Perché il fatto che tu parli di frequenze, di radiofrequenze, di onde elettromagnetiche, ionizzanti o non ionizzanti, non ti qualifica nella biochimica, tu non puoi sapere gli effetti su un corpo umano, o su un corpo vivente, a livello biologico, quindi tu a me, sui commenti mi hai parlato, sì ma portami le fonti, ma tu, questa è la domanda con cui voglio finire sto video, ma tu, che fonti biochimiche hai, come fai a rapportare un apparecchio elettronico digitale, con le onde elettromagnetiche, su un corpo biologico, sei anche un biologo? o allora neanche io sono un biologo, però con un po' di riflessione e di intelligenza, voglio pure ammettere i miei limiti di aspetta, spettro, tu puoi arrivare fino a questo punto, però ci potrebbe stare quell'altro punto che tu non conosci, quindi ci vado cauto, ecco dove sta il problema, ecco dove è il problema, ti dico un'altra cosa, ci sono petizioni per alcune, non ti faccio nomi, per alcune emittenti radiofoniche, radiofoniche, nelle grosse città, dove tutti quelli che abitano vicino, si ammalano di cancro, eppure l'emittente radiofonica mica trasmette in 5G, l'emittente radiofonica trasmette sulle onde radiofoniche, ok, che sono le onde normalissime, ma la vicinanza a quelle antenne, ok, porta il cancro, tu mi dirai spec, ma quelle sono alte potenze, ma come? Sono onde non ionizzanti. Ciao Marco.